Si raccusa a prete, commette reato e torna laico, Santa Sede lo sveste dallo Stato clericale. I guai giudiziari sono stati la causa del provvedimento adottato dalla Santa Sede nei confronti di Don Paolo Pandolfo, già parroco della Chiesa di Sant'Andrea d'Augusta. I fatti di cronaca per il sacerdote risalgono antecedentemente al 2021 per il reato commesso a causa per ludopatia dopo varie fasi presessuali e si sono conclusi poi con un patteggiamento. Con una breve nota, l'Arcidio Oncesi di Siracusa ha comunicato il provvedimento adottato dalla Santa Sede nei confronti di Don Paolo Pandolfo, già parroco della Chiesa di Sant'Andrea d'Augusta. Il sacerdote, scritto nella nota pubblicata nella pagina della Curia, incardinato nell'Arcidio Oncesi di Siracusa, è stato dimesso dallo Stato clericale. Lo ha comunicato il vicario generale Monsignor Sebastiano Menta che ha reso noto il decreto del 20 giugno scorso del Dicastero per il Clero della Santa Sede. All'esito del procedimento canonico che ha interessato il reverendo sacerdote Paolo Pandolfo, il Dicastero per il Clero con suprema e inappellabile decisione ha dimesso lo stesso dallo Stato clericale. Il decreto è stato notificato all'interessato il 30 giugno scorso. Il provvedimento fa seguito ai problemi giudiziari in cui è incappato il sacerdote che nel marzo del 2021 era stato trasferito dalla parrocchia Megaresi.